In apertura della sessione di lavori di settembre del Consiglio Provinciale di Bolzano, consigliere e consiglieri hanno presentato 17 interrogazioni sui temi di attualità, cui hanno dato risposta a componenti della Giunta e il Presidente del Consiglio. Tra i temi trattati, le dimissioni del personale medico dell'Azienda Sanitaria Provinciale e il destino dei documenti voto approvati in Consiglio e destinati a Parlamento e Governo. Nel tempo riservato all'opposizione sono state trattate diverse proposte. Ampio sostegno ha ricevuto quella del Gruppo Verde per il riconoscimento della cultura notturna e delle subculture quali importante fattore sociale e culturale di interesse provinciale e l'elaborazione di un piano per la cultura notturna. Respinta invece la proposta del Partito Democratico di ampliare gli orari d'apertura delle biblioteche provinciali e universitarie e quella della City Roller Freiheit per ridurre il numero dei caselli autostradali e introdurre sistemi di pagamento moderni. Voto contrario anche alle iniziative di IOT VA Wirt Underland e Für Südtirol Mitwidman. La prima riguardava lo status di tutela di Lupo e Orso e richiedeva l'uscita dalla Convenzione di Ginevra. La seconda promuoveva un progetto pilota di ingressi prioritarie per la popolazione residente alla Funivia del Renon. Temporanamente sospesa infine la mozione del Team K che mirava a istituire un consiglio provinciale per i giovani e le giovani. Primo firmatario ufficio di presidenza intendono confrontarsi con le organizzazioni giovanili in merito alla realizzazione pratica del progetto prima della sua attuazione.